Uffici elettorali dei comuni aperti domani per il ritiro delle tessere elettorali dalle 7 alle 23 se smarrite o già piene oppure per un cambio di residenza o altro. Già i comuni come ad esempio quello di Pescara stanno facendo degli orari straordinari per agevolare gli elettori. Qui siamo negli uffici di Via Calabria dove diverse persone si sono recate, come ci dice Isabella Cecamore, responsabile front office Ufficio Elettorale Comune di Pescara. Abbiamo una richiesta costante di duplicati di tessere o di primo rilascio dovuto all'esaurimento degli spazi voto o semplicemente allo smarrimento che è una delle causali che comunque continua a essere sempre numerosa, nonché il rilascio delle tessere per i nuovi iscritti, i neodiciottenni e i neocittadini italiani. Gli uffici nella giornata di oggi sono aperti dalle 8.30 alle 19.30 e domani dalle 7.00 alle 23.00 potenziando le fasce orarie già basilari che ci comunica la Prefettura. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori come fare se si è smarrita la tessera elettorale oppure se si è esaurita, cioè se i timbri sono stati messi tutti. È sufficiente venire prestino a suffici muniti di un documento di riconoscimento e chiedere il duplicato della tessera. Nel caso in cui invece la persona sia impossibilitata a recarsi prestino a suffici può delegare un altro soggetto, sempre con delega scritta e copia del documento di riconoscimento.